Ottima per quello che riguarda il primo tempo, una grande prestazione dal punto di vista tecnico, la miglior prestazione dal punto di vista tecnico dell'Asti fino adesso tra la Coppa Italia e il campionato, nel secondo tempo abbiamo fatto i due gol e abbiamo avuto altre situazioni per fare gol, abbiamo preso un palo dopo un minuto, nel secondo tempo li abbiamo contenuti, ci è mancata un po' di gamba negli ultimi 30-40 metri, se no secondo me potevamo fare il terzo in contropiede, però abbiamo deciso di stare lì davanti e fare un muro davanti alla nostra porta e praticamente non l'abbiamo rischiato mai, è venuta questa palla inattiva, dove probabilmente c'è stato un errore, però comunque credo che sia l'unico errore che ha fatto la mia squadra oggi, devo dire che essendo la partita dopo tre giorni sono molto contento, abbiamo avuto un giorno in meno di recupero rispetto alla loro partita e questo vuol dire, però le ragazze hanno dato tutto, c'è una significativa volontà di squadra di portare avanti un determinato discorso e per me questa è la cosa più importante. Allora abbiamo fatto una grande partita nel primo tempo, abbiamo giocato molto bene, testa la tecnica, abbiamo fatto bene, le cose che ci ha chiesto il mister e invece al secondo tempo ci siamo un po' abbassati, un po' di stanchezza, le tre partite comunque si iniziava a far sentire, le partite una settimana, però è andata bene, abbiamo portato quasi tre punti e va bene, non so.